Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, cari signori, in questi tempi di pandemia da coronavirus, qualche cosa per tirarsi su il morale ci vuole, diciamoci la verità. Stiamo sempre a preoccuparci per il virus, stiamo sempre attanagliati dalla strizza per il covid-19 e bisogna tirarsi un pochino su il morale. E cosa di meglio per tirarsi su il morale di un sano video perculatorio? Sì, signori, sì, 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 perché se c'è una cosa che il covid-19 non ferma, quella è proprio la ritardanza di certa gente. Allora, non so se vi ricordate, io tempo fa avevo fatto un video sulla cosiddetta base antartica 211, ovvero sia la cosiddetta base nazista in Antartida, la cosiddetta nuova Svevia, non so se vi ricordate. E come sempre, quando si tratta di questi argomenti, c'è gente che crede alle peggio bufale. Qualche ora fa, in risposta a quel mio video, tenetevi forte, mi scrive tale signor Max Max. Io, in quel video, avevo spiegato che la base antartica 211 era una bufala bella e buona, anche piuttosto grossolana, anche decisamente poco credibile, Ma il signor Max Max mi scrive Ma secondo te io credo a te o al grande Miguel Serrano? E io mi chiedo, che cazzo è Miguel Serrano? Vabbè, Miguel Serrano è stato un grande esoterista. Aveva detto che i nostri fratelli della base 211 hanno raggiunto un livello tecnologico inimmaginabile. Ma secondo te il fenomeno degli UFO è alieno? Oppure gli UFO sono l'aviazione della base 211? Gli uomini della base 211 sono in attesa, interverranno al momento giusto, poiché siamo nel Kali Yuga. Gli uomini della base 211 sono gli unici che potranno disarmare gli israeliani e sconfiggere il nuovo ordine mondiale. Con annesso un link, io gli ho detto semplicemente di raggiungere l'Antartide a piedi e lui, Serrissimo, continua Devi sapere che esistono dei cicli cosmici che gli induisti dell'India conoscono bene. Secondo gli induisti noi siamo nel Kali Yuga, il periodo del materialismo e la decadenza. Lo stesso concetto è stato espresso anche nel libro esoterico Il Kibalion. E che, vabbè, gli uomini della base 211 si sono occultati e sono in attesa del momento propizio. Ma probabilmente tu, cioè io, non sei adatto a capire certi concetti dell'esoterismo ariano. Quando torneranno i nostri fratelli della base 211, per i nostri tiranni nuovo ordine mondialisti, che oggi sembrano onnipotenti tra le nazioni, sarà tempo di pagare. Per i nostri tiranni sarà l'inizio della fine. No, Maria, io esco. Vi giuro, vi giuro, lo ha scritto, lo ha scritto, lo ha scritto realmente e è stato in grado di scriverlo realmente. Cioè, scusatemi signori, io per la salute mentale di quest'uomo, io mi auguro che sia un troll, che sia uno scherzo. Mi auguro che sia uno scherzo. Mi auguro che sia uno scherzo. Mi auguro che sia un troll. Spero per la salute mentale di quest'uomo che sia un troll. Ma il problema è che ho un'impressione che ci creda veramente. E questo è il fatto. Cioè, signori, qui io mi sono un pochino informato su sto signor Miguel Serrano. Dicevo, mi sono un pochettino informato su chi era questo Miguel Serrano, questo scrittore e filosofo cileno che, come dire, definire delirante è poco. Siamo sinceri, un personaggio che, insomma, siamo sinceri, un personaggio che, come dire, ho letto, cioè, prima di fare questo video mi sono un pochettino informato. Cioè, io non sapevo chi fosse questo scrittore e filosofo cileno. Cioè, era uno talmente tanto delirante che, come dire, persino Pinoce lo schifava per dire, cioè, va bene, cioè, da quel poco che ho potuto capire. Serrano scrive una indigesta brodaglia di concetti veramente molto mal masticati e ancor peggio digeriti. Cioè, però, veramente, signori, cioè, signori, i nazisti attendono, i suoi fratelli ariani attendono sotto i ghiacci dell'Antartico, o, per meglio dire, per quello che ne rimane, dato che si stanno sciogliendo, ma... Cioè, signori, no, 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 Maria, io esco di nuovo, Maria, io esco di nuovo. Signori, io dico solo una cosa, ma come si fa? Come si fa? Ho detto, è vero, io non avrò le armi per comprendere, non avrò le armi per capire, non ho la mentalità per ragionare su certe cose, ma, oggettivamente, su certi cose, c'è... Cioè... Cioè... Il... Credo che il mio cappellino la dica lunga su come... su come mi sto sentendo adesso. Cioè, io... Che ci posso fare? Cioè, che gli devo dire a questo? Una risata vi seppellirà, perché è quello che vi meritate, il nuovo ordine mondiale. Ma de che? De chi? De cosa? Cioè, tutti questi progetti del nuovo ordine mondiale, i complotti, Bilderberg, Soros, le Demo, Pluto, Pippo, Paperinocrazie, giuraico-massoniche, Israele, Il materialismo, il... Cioè, ma vi guardate allo specchio e siete in grado di non mettervi a ridere quando dite ste cose? Signori, vi prego, per favore, per favore, gli ariani nascosti nella base antartica, i suoi fratelli ariani, me l'immagino il signor Max Max, magari è alto un metro e sessanta, carnagione e olivastra, capelli neri unti e occhi scuri. Me l'immagino quanto sarà ariano sto signore? Quanto sarà ariano sto signore? Quanto? Vi prego, mi scappa da ridere perché non credo, signori, non credo ci sia nient'altro da aggiungere, mi ha persino detto di non essere in grado di capire l'esoterismo. Se questo è esoterismo, grazie al cielo che non lo capisco, perché se lo capissi a quest'ora, io molto probabilmente ero in camicia di forza sotto TSO, ma perché ce ne vuole di impegno a pensare queste cose, ma ce ne vuole veramente tanto di impegno a pensare queste cose. Inoltre, il personaggio, sempre diciamo nei commenti allo stesso video, mi ha anche scritto inviandomi un link di un video per chi fosse interessato a vedere un serio documentario sull'argomento. ho visto sto documentario, così mi è venuto da fare, ma veramente? Se quello era, io gli ho risposto che se quello era un documentario serio, io non solo sono estone, ma sono anche juventino, il che è tutto dire. Lui si è offeso e ha detto ma perché è bello il video che hai fatto tu, che parli di cose che non conosci, lascia perdere certi argomenti legati all'esoterismo nazionalsocialista. Ti consiglio di dedicarti al marxismo e alla cabalà. Io l'esoterismo nazista te lo lascio volentieri. Cioè, tanto per dirne una, siete talmente tanto ridicoli che i personaggi a cui vorreste far riferimento sono quelli che vi smerdano per primi. Cioè, dovreste sapere, mi pare di aver già detto che io sono un grande lettore di Tolkien, sono un grande appassionato di Tolkien. Leggo Il Signore degli Anelli praticamente una volta all'anno da circa 40 anni. A proposito, la nuova traduzione del Signore degli Anelli è una schifezza assoluta, ma lasciamo stare. Dicevo, Tolkien ricevete dal suo editore tedesco una lettera in cui si chiedevano tra virgolette conferme della correttezza ariana degli scritti di Tolkien. io mi immagino la scena Tolkien legge i deliri del suo editore tedesco in cui praticamente riceveva questa lettera in cui si parlava di ariani, purezza della razza ariana, purezza della razza germanica, bla 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 bla, così. La garbatissima ed educatissima risposta del professore, insomma, dell'autore del Signore degli Anelli, dello Hobbit, del Silmarillion, di Tom Bommadil, fu condensabile e condensabile in una sola frase. Ma che cazzo state a dire, cialtroni? Cioè, signori, che vi posso dire? Siamo al delirio, siamo peggio che al delirio. La gente stanno male, ma non per il coronavirus, ma perché stanno male di loro, sta gente. Quindi, che vi posso dire? Signori, adesso tocca a voi. Commentate, commentate, commentate qua sotto, per favore, commentate qua sotto, che date del vostro meglio, date del vostro peggio. Vi prego, vi prego, signori, scatenatevi, che ce n'è bisogno. Quindi, come sempre, arrivederci al mio prossimo video, e come sempre, ciao!